13 luglio Sant'Anacleto, Papa e Martire Nella celebre lista dei sommi pontifici che si ammira a San Paolo fuori le mura, il medaglione di San Clemente si trova preceduto da quello di Sant'Anacleto e sseguito da quello di Sant'Anacleto. Sant'Anacleto sarebbe il primo papa del II secolo. Tuttavia, le più antiche liste dei papi che ci sono pervenute, in particolar modo quella di Sant'Ireneo, ignorano questo successore di San Clemente. Gli storici moderni sono concordi nel ritenere che Cleto e Anacleto sono un unico e medesimo papa, essendo Cleto la forma abbreviata del suo nome. San Cleto sarebbe così titolare di due feste nel corso dell'anno liturgico, e al 26 di aprile si troveranno i pochi ragguagli storici che si possono avere a suo riguardo.